Allora l'estensione che vi voglio spiegare questa sera si chiama SiteBookMarks ed ecco e una volta installata si presenta così allora in qualsiasi pagina andate ad esempio qua siamo su Google tasto destro una volta installata eccolo qua andate qua ecco cosa succede cosa succede cosa si presenta quello che voi cercate allora clicchiamo sopra qualsiasi cosa e questo è il risultato come si vede questa è la funzione naturalmente questa è la mia presentazione adesso voi per trovarlo scrivete site eccolo qua site questo cliccateci sopra ecco questa è l'estensione questo è aggiunto a me si presenta così aggiunto a chrome voi troverete qua aggiungi a chrome cliccate sopra e si installerà praticamente la trovate qua altri strumenti estensione e vi mostro lo è io già la so eccola qua questo questa è potete disattivarla gestinarla se volete non la volete più ma tenetevela sempre la potete disattivare e questo è il risultato qua non funziona perché su questo elemento non può funzionare avete visto qua siamo su youtube guardiamo i 10 comandamenti questo sarebbe il risultato io vi saluto spero che vi sia utile perché a me è utilissimo è una cosa velocissima io chiudo e vi saluto sono oggi in espressione naturalmente ciao